ci sentiamo carichi anzi più che carichi molto accaldati siamo comunque pronti per ripigliare da dove abbiamo interrotto e quindi un mese e mezzo fa dalla targa florio video vi diamo appuntamento io il mio pilota domani sera di volendo di vederci qua in piazza anzi a caccamo perché l'arrivo sarà nella cittadina di caccamo bocca al lupo anche agli altri piloti avversari e un saluto a tutti quanti un saluto a tutti 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 a tutti un saluto 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 a tutti